E vediamo... Guardate quanti SpacePod! Ne erano 5! C'è Vegeta Super Saiyan su una Mac! Ma che è sta roba? Sì! 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 Finalmente! Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Dragon Ball Legends Il gioco che finalmente, oltre ad essere gratuito, è anche disponibile in Italia Per ora stiamo parlando della versione Android, ma per iOS, quindi iPhone e tutto il resto dovrebbe arrivare davvero a breve Quindi mi raccomando, andate a scaricarlo e creiamo una bella community intorno a questo gioco Anzi, molto presto, essendoci il PvP, vorrei fare qualche battaglia magari con i fan, ma soprattutto con Blazigan68 e Tuberanza Secondo me sarebbero delle belle sfide Adesso che Dragon Ball Legends è disponibile in Italia, posso giocarlo con la massima tranquillità su PC, utilizzando Bluestacks Nel corso degli anni mi avete sempre chiesto come faccio a giocare i giochi mobile direttamente sul computer E finalmente oggi ci prendiamo giusto un minutino per spiegarlo La soluzione migliore di sempre è Bluestacks ragazzi Io ormai lo utilizzo già da un po' ed oggi vi spiego un po' come scaricarlo, visto che è completamente gratuito Primissima cosa, in descrizione vi lascio il link per scaricare Bluestacks Ripeto, è gratis, quindi ragazzi non dovete fare altro che scaricarlo e installarlo Vi ritroverete davanti una schermata di questo tipo, dove ci sono un bel po' di giochi E qui sotto ci sono quelli un po' più gettonati in questo periodo Voi ragazzi dovete cliccare su Download Bluestacks 3N Ricliccate su Download e di conseguenza ragazzi il download partirà Tranquilli, sarà velocissimo Installate il tutto, è davvero molto semplice e arriverete in questa schermata Da qui mi raccomando ricordate di andare nei settings e soprattutto nella zona dedicata agli account Inserite la vostra mail Io ad esempio ho messo quella di Google, no? Tramite la mail quindi siete a posto Andate in alto a destra, scrivete Dragon Ball Legends Magari lo vado a fare in vostra compagnia E vi riporterà direttamente al gioco Quindi potete installarlo da qui cliccando Install Che voi siate youtuber o meno ragazzi è la soluzione migliore in assoluto Per giocare i vostri giochi preferiti anche su uno schermo un po' più grande Perché a volte un semplice cellulare, ammettiamolo, è un bel po' riduttivo Direi di andare subito a fare qualche spacchettamento insieme Anche se per ora io vi do un consiglio Dovete assolutamente risparmiare tutte le stones Che qui vengono chiamati Chrono Crystals Ma andiamo subito a vedere quale personaggio riusciremo ad ottenere Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi ora al mio canale di YouTube Se non l'avete ancora fatto Ma soprattutto lasciate ora un mi piace Vi voglio davvero carichi al massimo Per questo nuovo gioco che potrebbe dare inizio a una nuova serie qui sul mio canale Potrebbe essere interessante Poiché potrebbe essere una bella serie estiva Allora direi di iniziare con una single summon Visto che una al giorno costa di meno Infatti questa qui costa circa 20 cristalli Normalmente sono 100 E vi faccio vedere quali sono quelli più validi Come vedete lo schema è quello di Dokkan E c'è Goku Super Saiyan Poi Vegeta Nella sua forma ovviamente Scouter Piccolo Poi Paikuan E Pan Direi quindi di andare ad utilizzare questi 20 cristalli E vedo una Space Pod Ragazzi ci sono dei personaggi Ovviamente più validi rispetto ad altri Io spero di riuscire a trovare un Goku Super Saiyan C'è anche Paikuan Andiamo con il pull Vai così Goku Purtroppo non ci siamo trasformati in Super Saiyan E' un po' come i Dokkan Quindi in pratica Goku si può trasformare in Super Saiyan Talvolta ti viene in aiuto Vegeta nei combattimenti E purtroppo abbiamo trovato Jeez Davvero una piccola delusione Ragazzi sono sincero Eccoci qua di nuovo Questa volta niente Space Pod E già non è un grandissimo Accenno di quello che succederà qui Ma vediamo Vedo che Goku sta malminando un po' Freezer Andiamo con questo pull Si trasformerà? Anche stavolta no Davvero peccato E non dirmi che Sì di nuovo Freezer riesce a colpire Goku Non so cosa succede quando vediamo sta roba E abbiamo un'app Che in realtà io ho già Quindi un grande peccato In ogni caso Ottenendolo più volte Il livello del personaggio aumenta Quindi Non è che per forza è una cosa tragica Vediamo un po' stavolta che succede Niente Space Pod Ancora una volta Ragazzi queste single summon Incominciano ad essere un attimino sfortunate Bisogna dirlo Cioè guardate Goku Riproviamo con questo pull Non si trasforma E incomincio a sospettare Che anche stavolta Freezer ci malmenerà malamente No C'è il colpo che si ferma E riotteniamo Recom Che forse ho già Sì ho già Quindi da come vedete sale il suo livello Ragazzi Voglio almeno trovare una Singola Sparking Il fatto di stare su PC con Bluestacks Ragazzi È una comodità assurda Cioè ogni volta che devo registrare un video Vado davvero tranquillo E soprattutto poi è tutto fluido Faremo anche qualche bella battaglia Magari proprio nel PvP Andano a giocare online E vedremo se troveremo qualcuno forte quanto noi Più forte di noi E così via Qua sto notando che Goku prende ancora schiaffi Davvero strano eh Oh e otteniamo un personaggio nuovo Ovvero Gohan Questo qua ragazzi non ce l'avevo Ma sono sincero Non è che mi faccia impazzire eh E vediamo Guardate quanti space pod Ne erano cinque Goku ti prego trasformati in Super Saiyan Cioè di base ragazzi Più cose fighe succedono nella battaglia Più è facile che troviamo qualcosa di raro Vedete Qui il colore del pool cambiava Dai 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 Questa volta mi aspetto qualcosina in più Anche se Goku viene comunque malmenato C'è Vegeta Super Saiyan su una Mac Ma che è sta roba No vabbè ragazzi Questa è una figata Vediamo che succede Freezer distrutto totalmente E andiamo a trovare Ti prego C'è Sì Sparking Ragazzi abbiamo trovato Pan Tra tanti personaggi che potevamo trovare Mi è uscita Pan Va bene non importa Ma è pur sempre una Sparking Per cui sono contento eh Devo essere sincero Non so in realtà qual è la rarità di quella Pan Ma essendo un personaggio Sparking Quindi un personaggio da banner Dovrebbe essere davvero normale eh Vediamo un po' se riusciamo a salvare la situazione adesso Anche se sono sincero qui La vedo un attimino dura Vai che andiamo a colpire Niente da fare Ragazzi Goku prende sempre schiaffi qua Eppure i personaggi che possiamo trovare sono pochi Perché ecco mi fanno ritrovare un altro Gohan Facciamo altri due o tre single summon E' cambiato qualcosa No ragazzi è cambiato lo scenario Questa non me l'aspettavo Quindi cambia lo scenario Da come notate Goku è già subito Super Saiyan E c'è ottima possibilità di trovare forse qualcosina di meglio Fino ad ora non avevo mai e poi mai visto questo scenario così Di Namek distrutto Quindi ci sono un botto di variazioni Oh e abbiamo trovato addirittura già Yozzi Detto anche Riff in italiano In questa versione Extreme Davvero non male ragazzi Non sapevo ci fosse anche Riff Oh guardate quante ce ne sono adesso ragazzi di SpacePod Chi lo sa chi lo sa Goku dai trasformati anche in Super Saiyan Ti prego Forse abbiamo possibilità di un'altra Sparking eh ragazzi Non è detto Non è detto ma Potrebbe esserci questa possibilità eh Ma è che Goku si incavola e distrugge Freezer È la prima volta forse che vediamo questa animazione Troviamo Dai che c'è Goku Super Saiyan Sparking Sì ragazzi Sì 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 finalmente Dai ragazzi sono contentissimo Ci voleva assolutamente per trovarlo Direi di andarne a fare altri due Così in totale abbiamo speso mille Crono Crystals Vediamo 3 SpacePod In a mech distrutto Con Goku Super Saiyan Guardate che abbiamo buone possibilità qui eh Mi piacerebbe avere Vegeta Sparking E guardate stavolta che cosa succede Abbiamo la scritta pool dorata Release Dai ragazzi oh Stavolta forse troviamo qualcos'altro interessante Anche se vedo Goku in difficoltà C'è Vegeta Super Saiyan dietro con il suo Final Flash E il Super Kamia Miha di Goku Super Saiyan Ragazzi questa deve essere un'altra Sparking Ti prego non mi prendere in giro gioco Dai 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 c'è Un altro Goku Super Saiyan Sparking No vabbè ragazzi Duplice copia Sono davvero contentissimo Quindi finalmente vedete Insistere con queste stone O forse dovrei dire Crono Crystals A quanto pare sta portando dei risultati ottimi No vabbè ragazzi Va ad Ability 2 in pratica No vabbè Io non so che dire Questo va assolutamente messo nella nostra squadra Quindi direi di fare l'ultima Spero di riuscire a trovare un altro Goku a sto punto Non è detto E infatti stavolta abbiamo una sola Una singola SpacePod Quindi questa volta Credo di non dovermi aspettare chissà che cosa Va bene Ci sta in ogni caso Perché abbiamo trovato ben tre Sparking Quindi abbiamo trovato dei personaggi anche abbastanza potenti La cosa mi è piaciuta Purtroppo Goku qua ha preso schiaffi Quindi il personaggio che otterremo È addirittura un altro Giz Ma perché sta roba? Va bene Va bene Però per noi va bene Visto che è qualcosina di interessante L'abbiamo trovato Quindi andiamo assolutamente A modificare la nostra squadra A quanto pare Si possono tenere Ben due Goku in squadra Per me quindi può andare bene Poi andiamo a mettere assolutamente questa Pan Non so Per ora toglierei Yamcha E per ora direi di restare così ragazzi Poi magari datemi voi qualche consiglio Poiché vorrei comprendere meglio come gestire tutto il team Quindi per ora va bene Confermiamo Dovremmo essere di gran lunga più potenti Ma è chiaro I nostri personaggi ora devono anche salire un po' di livello Piuttosto che fare una battaglia online Potrebbe essere una bella idea Fare il nuovo evento di Radish Ragazzi non so quanto è potente questo nemico A livello 100 Bah forse noi possiamo farcela Proviamoci ragazzi Vediamo che succede Ed eccoci qua Ah addirittura viene raccontata tutta la storia di Zeta Ma noi sappiamo alla perfezione cosa succede con Radish No? Arriva sulla terra per rapire il figlio Ma il vero obiettivo è far risvegliare Karot Da questa grandissima e stupidissima cosa che fa Ovvero risparmiare gli umani Ed eccoci qua Finalmente si va in battaglia Defeat all enemies Quindi sapete che vi dico Vai così subito Andiamo a colpire in maniera anche abbastanza convincente E poi direi di andare con il colpo di aura Boom Ottimo Devo stare un po' attento Anche se di base ragazzi Il nemico non è assolutamente valido Non appena posso Vado col Rising Rush E vediamo che succede Proverei in questo modo Ha selezionato la carta Sperando che lui non la selezioni uguale Altrimenti per noi va malissimo Ma lui già è messo male Abbiamo già vinto ragazzi E guardate i tre colpi di energia Che distruggono Totalmente Radish Diciamo che era facilissimo ragazzi Non era così complicato vincere questa battaglia Però 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 Ce l'abbiamo fatta ed è questo quello che conta Va bene così Voglio vedere quali sono Non so Eventuali bonus che ci danno Saliamo di livello a dismisura Con Goku e Pan Andiamo a livello 33 10 Crono Crystals Ne abbiamo spesi un bel po' oggi Quindi Deve rientrarci assolutamente qualcosa Abbiamo ottenuto qualcosa Per quanto riguarda gli equipaggiamenti E va benissimo così Dai Nooo Dovevo cambiare due volte personaggio Mi mancava solo questo Per fare tutte le challenge Mi raccomando ragazzi Vi ricordo che se anche voi Volete scaricare Blue Stacks Vi lascerò il link qui sotto Di download Tanto è gratuito Tanto vale provarlo Funziona alla perfezione Anche sui computer un po' più vecchiotti Per cui Andiamo alla grande Quindi ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi ora al mio canale di YouTube Cliccando qui al centro Guardate altri video Già presenti sul mio canale Cliccando qui a destra e sinistra E quindi alla prossima Ciao Ciao